La salvezza si costruisce in casa, ma questo non sembra essere il caso del Bari. Che al San Nicola, la sua casa spesso vuota, solo contro il Palermo si sono visti 10.000 spettatori, ha conquistato appena 4 vittorie in tutto il girone d'andata. Trend negativo confermato anche dalla prima partita del girone di ritorno. L'ennesima finale, agli occhi del tecnico Roberto Alberti, sbagliata nell'approccio prima e nel risultato poi dai biancorossi. La regina, inoltre, è avversaria diretta in chiave salvezza e torna a far sentire il fiato sul collo, oltre ad aver fatto ripiombare il Bari in zona play-out. Contro i calabresi si sono rivisti i soliti errori della squadra e le parole non sono di un tifoso qualsiasi, ma del portiere Guarna. Quasi inoperoso nel pomeriggio di sabato, avendo dovuto compiere una sola parata alla mezz'ora del primo tempo, ma quando la frittata del gol subito era già stata fatta dalla difesa, che ha dimenticato mai Con dopo appena un minuto di partita. Per tutto il primo tempo il Bari è apparso frastornato e appesantito, mentre il rigore di Defendi, parato da Pignacelli, si è trasformato in ulteriore zavorra psicologica per un gruppo in attesa di notizie certe sul piano societario e che in questa ultima settimana di mercato potrebbe perdere pezzi pregiati per dare ossigeno alle casse. Alberti ha chiesto un difensore destro e una punta centrale, temendo di dover fare a meno di uno tra Galano, Sciaudone e Defendi, mentre si attendono buone notizie dal TNAS. La riduzione della squalifica di Caputo sarebbe una buona novella in questo periodo piuttosto grigio, anche sul piano dei risultati.